Cioè, mi aveva detto alle due, va bene che i VIP si fanno sempre attendere. Vabbè, spero che ne valga la pena. Certo che ne vale la pena. Ciao, mi ha scusa, non voglio stare seduto. Niente, Danny. Mi piace di domingo? Penso che già mi conosci, no? Sì, ti conosco. Anche perché pare che tu abbia parlato di me, indirettamente. Fermo, già così. Ah, non era l'intruzione questa? Sì, va bene, però un attimo cerchiamo di conoscerci e di far capire, ragazzi, a caso. Io già ti conosco, chi è che non ti conosce? Hai ragione, dobbiamo far capire un attimo. Cos'è questa messa in scena? Perché sei qui con me? Come è messa in scena? È una cosa nuova, è tutto genuino e reale. È reale, ma non hanno mai visto una cosa del genere nel mio canale. Ovvero che con un ospite, che solitamente è un po' puntiglioso nei miei confronti, cerchiamo di trovare, diciamo, un equilibrio, una quadra. Ci affrontiamo, diciamo, vis-à-vis. Cosa bella, così. Qui con me c'è Domingo Poliandri. Per chi non lo conoscesse, Domingo ha un canale, mi permetto, per quello che ho capito, molto verticale. Ovvero, lui tratta per lo più i fondamentali. Quindi, panca, squat e sacco. Ma anche i fondamentali come military press, per esempio, no? Ok, perfetto. Adesso arriviamo anche alla military press. È un peperino che va gestito, Domingo. Va un attimo... Però è qua e questo... Direi che la maglietta parla chiaro, no? 25 più 25 uguale 70. Perfetto. È molto carina in realtà. Mi piace. Quando l'ho notata non ho voluto farti i complimenti, però mi piace. Diciamo che l'obiettivo di questo incontro, e devo dirlo, mi fa piacere averti qua, perché non è una cosa scontata. È molto più facile cercare di esprimere le proprie opinioni a casa, nella propria comfort zone, senza avere qualcuno che comunque può in tempo diretto intervenire. Quindi il fatto che tu sia qua è super bello, super positivo, e fa capire che comunque non ci sia un accanimento nella figura, diciamo, ce l'ho con te, parlo di te per questo motivo, no? Anzi, credo. Io adoro le tribune politiche. Ecco. Quindi adoro le discussioni. Se mi avessi chiamato non avrei fatto nessuna video reaction, ma come faccio a contattare Dennis? Che Della non risponde. Devo contattare sua moglie, poi dico, eh, ho chiamato mia moglie due di notte. E che devo fare per arrivare a lui? Meno male che ci sono degli intermediari che rispondono ai vocali, soprattutto. E guardi, io resista. Eh beh, sì, ma lui ha anche del tempo da mettersi, diciamo, in azione. Adesso, che lo so, spero di avere un contatto diretto. Sì. Allora, fremiamo un attimo i bollenti spiriti. Perché io e lui siamo qua? Perché c'è stato un trascorso, attenti, fermi, non un trascorso nebuloso o ostile. C'è stato un trascorso tra me e lui perché sono venuto circa, ricordami se sbaglio, la prima volta dello strike, un anno? L'anno esatto o non mi ricordo? Forse è il 2021. Comunque un anno, due anni fa. Domingo ha preso un estratto di un mio video, quindi... Attenzione, ho fatto una video reaction davanti alla mia tv. Non ho scaricato nulla. Una cosa grezza, tipo cream screen, però con la tv. Ho un tv da 75 pollici. Ok. Mi sono messo davanti, quindi è come se avessi registrato un tuo video dalla tv. Ok, perfetto. Ha fatto questa reaction ad un mio contenuto, il network a cui sono affidato da sempre, il mio unico network, ha intercettato, non so se per segnalazione non l'ho mai appurato... Diciamo che dopo quattro ore me l'ha falciato. Una segnalazione probabilmente, il contenuto di cui detieni i diritti, ovvero il mio. In automatico è partito lo strike senza spiegare la cosa. Cos'è successo? Quando lui ha ricevuto lo strike, Ah, premetto io, il video non era assolutamente negativo. Faccio una correzione, faccio una correzione. Non ho ricevuto uno strike, ho ricevuto un copyright, tipo quando ti dicono questi frame devi toglierli. Ok. Io ho fatto come mi ha detto il network, ho tolto i frame, ho ricaricato il video, il network ha pensato che stessi facendo il furbo e mi ha dato lo strike. Ho detto, scusa, ma mi avete segnalato questi frame? Se tutto il video era illegale, perché non mi avevi detto prima? Eh, non ci siamo capiti. Questo è successo. Ok. Quindi ho rispettato le regole. Cosa è successo? È successo che quando ha ricevuto, diciamo, questa notizia da parte del network, si è un attimo scaldato e questo ha fatto sì che di impeto, diciamo, anche un po' preso dei bollori, perché sei bello fumantino. Allora, io intanto non sapevo dell'esistenza, non tanto della politica dei copyright, ma di un network, non sapevo cosa fosse. Infatti ero turbato, perché era un bellissimo video, partito bene. Turbato. La gente mi ha detto, ma come? Domingo. Sembrava quasi che Danita avesse pagato per la prima volta che fai una video reaction e era positiva. Esatto. E lei te lo butta giù. Non riuscivano a capire. Questo volevo dire. Il video non era affatto negativo. Stava, non l'ho visto, però stava analizzando le alzate, probabilmente. Sì, sì, ma io ho sempre... Fatto sta che il network interviene pagato per questo. Tutti i mesi pago, appunto, per proteggere i miei contenuti. E interviene lestamente Domingo, che conosce personalmente, personalmente? Mia moglie? O solo a livello... Mai vista la vita mia, la conosco sui social. Ok. Essendo lei stata una ex... Moteletrice. Ok. Powerlifter. Domingo, come avete ben capito, è un powerlifter. Cherry è stata powerlifter, ha gareggiato, tra di loro si conoscono. Ha gareggiato il FPL? Sì. Ok, può essere una powerlifter allora. Sì, ha fatto... Non le gare amatoriali. No, ha fatto anche gli italiani, ha fatto una bella posizione anche quarta, quindi tutto sommato era molto contenta, si conoscono, il powerlifting è un mondo molto... era soprattutto anni fa, molto più di nicchia, si conoscevano molto meno, e conoscendolo, avendo un contatto, l'ha subito contattata, gli ha detto, Cherry, guarda che mi è arrivato lo strike da parte del canale di tuo marito. Cherry mi ha subito contattato, io ero su un set, un set spaventoso, erano 10 ore di registrazione che dovevo fare. Gentleman. No, 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 era una pubblicità, dovevo girare una pubblicità. Mi ha detto, guarda che domingo ho ricevuto lo strike dal network, cosa facciamo? Gli ho detto, digli di portare pazienza, non c'è nessun problema, adesso finisco sul set, quando torno, scrivo al network e faccio rimuovere lo strike. Cos'è successo nel frattempo? Nel frattempo, questa persona dominghiana che è super 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 scaldina, non poteva aspettare un secondo, ci sono scambi audio tra di loro, non poteva aspettare un secondo, subito un video. Lazzarin mi ha fatto strikeare, un polverone inutile. In realtà l'avevo già fatto quel video, prima ancora, era un tipo piano B. Ah, cioè pensate quanto è marcio e malato. No, è semplicemente... Prima fa... Ha detto, mettiamo caso che Danny non risponde, almeno ho il video già pronto per rispondere. Ma quale persona ragione così? Mettiamo che Danny non risponde... Vivo di strategie da sempre, sono minacciato da 10 anni ormai. Da chi? Da tutti quelli che ho fatto incazzare su Facebook. Vivo sempre con questa preoccupazione che qualcuno mi possa fare qualcosa. Almeno. Pensavo che fosse una trappola qui inizialmente, quindi sono partito anche qui con delle strategie per sicurezza. La trappola. Danny che mi invita nel suo podcast? Pazzati. Mi hanno fatto uno scherzo, i Street Gorilla tempo fa, mi ha chiamato con la voce Danny Lazzarin. Beh, smetti a dissarmi, perché non vieni qua? Ma io a parte non ti ho mai dissato, gli ho detto. E poi non ci sono cascato lo scherzo. Era quello di doppio tutto, non so se l'hai vista all'interno. Mi hanno fatto una chiamata, lui ha doppiato la tua voce perfettamente. C'è uno scherzo telefonico su YouTube nel video di Street Gorilla. Ok. Fatto sta che lui, come avete sentito, fa i video, si sa mai che un domani allora lui già previene, ha subito caricato questo video al che sinceramente mi sono incazzato. Perché? Perché sono andato a vedere il video. Ah, l'hai visto quindi? No, in realtà mi hanno fatto dei commenti. Siamo sempre lì allora. No, sai che forse quello l'ho visto? Quello di Daniele Lazzaro. Ti ho chiamato Daniele, perché ho paura? Non posso usare il nome di Danny Lazzarin perché è copyright. Allora ho detto, Daniele Lazzaro? Non ho messo foto, niente. Il video ha spaccato più di quello prima. Quindi non fotteva un cazzo a nessuno nel suo contenuto. Volevano semplicemente vedere me che parlavo di lui. Come sempre, sono io il contenuto. Lui è lo sfondo in questo caso. Fine. Questo era il discorso. Ok. Infatti il video è piaciuto, non era offensivo. Ho detto semplicemente Daniele Lazzaro, ho detto una battuta sulla pizza all'uva, che non è un termine ormai conosciuto nel Wikipedia o sul dizionario. E tua moglie ha detto, Danny ha visto il video, c'era Daniele Lazzaro, pizza all'uva, c'è rimasto male, sono due battute di Jim Lemon. Chi ha detto questo? Tua moglie. E adesso lo strike te lo tieni, mi ha detto. Ci penso io, chiamalo il network e ho detto, se lei è d'accordo con il marito per tenermi lo strike e il network me lo toglie, vuol dire che Danny non comanda, è il network. Nel video facevo la sketch che il network comanda su tutti. Ed era comico il video, non era neanche negativo, era un mio sfogo e ho ridotto il video, ho detto, io ho parlato bene di Danny, dei suoi video. Adesso sono un po' incazzato, ma non vuol dire che adesso butto merda su di lui. Però, a livello, diciamo, social network, non mi è piaciuta questa faccenda. Stop. Cioè, io non l'ho visto quel video, me l'hai raccontato e mi fa proprio cagare. Cosa? Cioè, proprio un video, cioè tu hai fatto un video dicendo... No, il secondo video. Sì. Sì, per spiegare ai fan cosa era successo. Eh sì, perché lui che non sa cos'è un network fa un video ai fan per spiegare cosa è successo, non sapendo cos'è un network. Ma neanche le persone che seguono i YouTube sanno cos'è un network. Io ho dovuto spiegare ma cos'è sta roba? Ma pensavo che tu fossi un censuratore e io volevo salvarti il culo. Non è colpa di Danny, è il network. Danny non l'ha visto il video, ragazzi, non prendetevela con lui. Io ho dato la colpa al network. Allora, questo in parte è vero. Il network agisce quando c'è quel problema. ci stavo scaricando le colpe, anzi, con quel video. Che non hai visto. Che modo bizzarro di scaricare le colpe. Puoi vedere il video se vuoi. No, certo. C'è ancora, è online. Sì, però certo che se ragioniamo sul... È un po' video un po' patatulo, ovvero, se dobbiamo scaricare le colpe... Col seno di poi non l'avrei fatto, sapendo che tu mi avresti... Perché io non mi fidavo tanto di quello che stava succedendo. L'unica cosa che mi ha fatto incasso, al di là della meschinità e del video che è chiaramente fatto... È un video che spiega quello che è successo. Ma non lo spiega in modo... Spiega una bugia. No, ho detto che il network me l'ha tolto per motivi di copyright, non perché Danny era permaloso. No, hai detto, se non erro, che nel titolo Lazzaro mi ha traicato il video. No, il video era... Non mi ricordo il titolo. Il fatto sta che i commenti... C'era scritto nella copertina Comanda il network. Ti ho fatto una burla che il network fosse sopra di te. Il fatto sta che nei commenti tutti quanti Danny ti ha censurato, Danny ha fatto questo e tu metti... Infatti, mi ricordo che tu hai commentato, ci fu una discussione di... Ho fatto anche i sondaggi, c'era un 60% dalla tua parte e un 40% della mia parte, no? Il fatto che tu avessi commentato aveva creato ancora più hype. Cazzo, hai detto, Domingo, ti sta facendo diventare un martire, cioè... Ti ho commentato dicendo ti bastava aspettare, come ti ha detto mia moglie, un paio d'ore che facevo rimuovere tutto. No, lui, due giorni prima aveva già fatto un video dove accusava e raccontava delle menzogne e l'ha dovuto caricare. Perché se non sai cos'è un network, non puoi fare un video di spiegazione. Ok, e ti posso chiedere scusa per la mia ignoranza. No, ma non devi chiedere scusa, stiamo adesso... Però, perché hai cancellato il commento poi? Ho cancellato il commento perché i ragazzi non capivano più. Stavano degenerando. Sì. E soprattutto, tua moglie stava degenerando in quel momento anche. Mia moglie è come te, essendo powerlifter è un po' una testa a casa. Sai cosa ha fatto? Posso dirlo? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Andava a commentare sotto ogni commento singolo, non di quella mega discussione, dicendo voi non sapete, dato che lui parla di pizza all'uva, che hanno beccato una sua atleta nell'antidoping. Ragazzi, può succedere a tutti... Avete capito perché mi sono innamorato di lei? Ecco, ti ha difeso, però stava facendo fare una figuraccia perché sembrava quasi... Insomma, è... E io ho detto... È una donna. Vabbè, poi ha cancellato anche lei i commenti dopo. Tutti sono spariti. Sì, credo di avere detto io di cancellare tutto. E poi, ho provato a punzecchiare su Instagram, se ti ricordi. C'era una tua foto in posa, ti ho fatto un bel complimenti. Questo non... Ma dovresti ricordartelo perché io mi ricordo cosa hai detto. Dai. Ho fatto un commento, non era una provocazione, era un commento... Adesso non mi ricordo cosa avevo scritto. E parte Cervi in guardia, come se sta lì contro tutti i commenti che scrivono su di te. No, no, non è che... Ed è generata una discussione di nuovo. Lei fa proprio questo. Ah, come... Ah... Lei è proprio pagata... Tu è protettrice? No, non è... No, non mi prostituisco per lei. No, protettrice ho detto. Sì, la protettrice è quello. No, lei è pagata per controllare tutti i commenti e tenere pulito la sessione commenti. Il problema è che lei è peggio di quelli che commentano. Quindi al posto di tenere pulito innesca le guerre. Tant'è che dopo qualche mese ho dovuto toglierla da quella mansione. Infatti ci fu un flame lì e tu scrivesti. Mi sa che voi non vi capite e ti lanciano tutta la discussione. E lì ho capito che era meglio lasciar perdere. Ho detto se non convinco la Cherry io Danny non ci arriverò mai. Perché pensavo che fosse lei la padrona di casa. E me lo stai confermando? Allora, la padrona di casa è lei. Perché è inutile negare quanto la donna abbia... Cioè lei ha i pantaloni. Lei non è che ha i pantaloni però diciamo che... Sì, lei ha i pantaloni, lei... Che bello che nel video strikeato avevo fatto un complimento pure alla Cherry perché aveva dato una cosa... aveva detto una cosa a te su un allenamento che stavi facendo. Bravo alla Cherry, ottima intuizia. Cioè era un video elogio. Quindi non c'era... No, no, ma su questo l'abbiamo appurato. Il problema non era il video elogio. No, no, è che lo strike non sa se io ti sto facendo un elogio o meno. Lui ha visto e l'ha falciato. Il problema nasce dal fatto che se mia moglie ti garantisce che Danny ti fa togliere lo strike immediatamente perché ricordiamo che il video era un elogio. Quindi che senso ho io di stoppare un powerlifter che dice tutto sommato Danny ha fatto anche una bella esecuzione. Sì, 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 ma... Il senso non era questo. Mi ha fatto arrabbiare e questo te l'ho detto anche in privato quando ci siamo sentiti che ti ho invitato qua, no? Sì, ma non me l'hai detto all'epoca. No, ma figurati. Potevi rispondermi all'epoca e finiva tutto. Ti ho scritto sotto e ti ho detto domingo se aspettavi due ore... No, nei commenti l'hai scritto? Sì. Quel commento là? Sì. Ti ho scritto sai che dopo ha degenerato e per quello che l'ho tolto ho detto mia moglie ti aveva garantito che io avrei tolto lo strike perché ho tutto l'interesse di avere un video con un tecnico che mi dice che sono bravo. Quello che mi ha fatto incazzare e te l'ho detto è stato che tu non hai ascoltato mia moglie nonostante tu l'abbia interpellata. Però ripeto il secondo video non era offensivo però. Sì, fermati un attimo. Quando io ti ho detto quando lei ti ha detto garantito che Danny torna e lo toglie e io lo sanno tutti io ho una sola verità è la mia se dico una cosa è quella lo toglievo lo strike mi ha fatto incazzare il fatto che ho detto non poteva aspettare due ore avrebbe il suo video lì non succedeva niente sappiamo tutti e due perché hai fatto quella cosa perché? Perché avevi già capito che ci sarebbe stato un ritorno migliore nello strumentalizzare quella cosa tant'è che hai spiegato ai tuoi follower quello che era successo raccontando una bugia perché non conoscevi il processo beh tu stesso hai detto non sapevo neanche cos'era un network perché devi fare un video comico ho detto che il network me l'ha tolto e Danny non sapeva nulla ho detto la verità no la bugia sta nella gag del Danny non conta niente il network comanda sì quella era la satira perché sembrava assurdo che non vi parlaste perché lui non vi parlava mai loro non dicevano mai lui ha parlato perché giustamente dici il network protegge la mia persona non vuole far sembrare no no non protegge la mia persona nel senso tu mi hai detto che il network non dice Danny ha chiesto a noi di farlo sì per proteggere la tua libertà ok scusa quello è il discorso quindi magari da come mi ha scritto nella mail sembrava che tu non contassi nulla e ho fatto la satira sul fatto che Danny non comanda ok questo l'abbiamo appurato un piccolo possiamo definirlo fraintendimento un misunderstand che però per me era un scoop perché lo scoop Danny censuratore era molto meglio di Danny esatto quindi perché non far fare la figura dello stupido a Danny e farci delle visual piuttosto che aspettare un paio d'ore stupido no dai la figura del genoflesso il genoflesso sembrano no la figura del cattivo di quello che ti deve censurare non ho detto nel video che tu non hai censurato il network il percepito dei tuoi spettatori è stato quello sì per questo hai fatto il secondo video per questo il secondo video doveva servire a far capire no Danny non c'entra niente no è nel secondo video invece che hai fatto peggio ma non ho detto così nel secondo video lo so ma se quello è percepito dei tuoi spettatori il problema è questo o tu che non ti sai spiegare ai tuoi spettatori o gli spettatori che non vogliono capirti e vogliono oppure c'è una community che lo sai che si diverte e te tossiche e ci arriveremo a quel discorso esattamente tutto sta a questo questo è stato il nostro modo di conoscerci lui che si arrabbia e non aspetta due secondi e crea un pandemonio cosa che se stava calmo probabilmente avremmo fatto da lì ai due anni successivi chissà quanti video su facebook mi chiamavano il re del framing inconsapevole il re del pensate con tanti titoli il distruttore sai come era il personaggio di Targaryen e ne è fiero sono titoli che mi danno le persone io che ci posso fare una domanda non è che sono davvero stronzo sì lo so ok ok quindi già questo ci fa capire fatto sta che le nostre strade un attimo sembrano essersi appianate ovvero lui si fa il suo io mi faccio il mio i cazzi tuoi io li faccio ancora in realtà ok vabbè come tutti nel senso non è un problema sono un personaggio pubblico è lecito ed è giusto che si parli di te se dici qualcosa che va contro tendenza magari certo assolutamente parlare quello non è un problema strumentalizzare una persona è un'altra cosa il motivo del video che ci ha fatto di nuovo riavvicinare che è quello sul fate schifo la community la community del fitness fa schifo il titolo è fate schifo hai strumentalizzato anche tu no fate schifo no chi fa schifo diciamo chi è che fa schifo potrei leggere il titolo per cortesia regista dia una lettera però la copertina è fate schifo no la copertina c'è ovviamente fate schifo il titolo è un altro però la copertina è più clickbait del titolo siamo d'accordo certo ma non è il titolo no uno legge il titolo quando apre la copertina non c'è più quindi tu quando stai guardando il video c'è il titolo c'è molta gente che però la community si attacca alle facce alle foto non tanto al titolo a volte il fitness in italia è una pagliacciata ecco non sei d'accordo sì siamo tutti un po' pagliacci esatto lì ho parlato di un a mio avviso problema perché dico problema perché e qua ti metto in causa anche tu come creator ne sei responsabile c'è stato un aumento smodato di cattiveria ingiustificata da parte di chi il fitness neanche lo conosce ovvero quanto spesso ci ritroviamo a leggere commenti di ragazzi che se siamo fortunati si sono iscritti il giorno prima in palestra e giudicano giudicano con cattiverie che non sono neanche umane perché dico cattiverie il problema non è che leggiamo che brutta panca non è quello è un filone di odio che sta perdendo il controllo e questo lo ritroviamo anche nel nella cattiveria nella malignità dello spettatore nell'andare a creare di propria voglia il dissing di cui brama ovvero scrivo in privato a domingo domingo lui 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 hanno parlato di te lo stesso spettatore scrive agli altri guardate che domingo ha parlato di voi questo ha creato un effetto a catena dove il creator da quello che vuole lo spettatore lo spettatore ha quello che vuole perché lo ha chiesto lo chiede di nuovo si è innescato e aumenta sempre di più poi aumenta tossica la cosa se io guardo il tuo canale guardo che ho anche invitato lo vedremo Teo Trainer guardo il suo profilo non vedo più contenuti che riguardano il fitness vedo opinioni su altre persone di più su Matteo Trainer bisogna sempre fare contestualizzare perché certo non è che se mi chiedono vai a ammazzare le lanzarine vado ad ammazzarlo cioè grazie no però c'è tanta gente che mi ha detto cose tue per attaccarti ma non sai che Danny a me non frega un cazzo se Danny fa un'esecuzione sbagliata il mio compito è dare un'opinione criticarla secondo i miei titoli ok se fa una cosa giusta non c'è bisogno neanche di parlarne perché alla fine noi siamo lì a alloggiare tutti quindi io faccio solo recensioni che abbiano un senso ok nel tuo caso il primo video era una scusa sì per parlare di te anche perché pensavo che sinceramente ci fosse un problema non ho visto errori per cui dire e sono rimasto sorpreso e l'ho anche detto alla fine video e quindi lì è stato magari qualcuno ha cercato di dire e poi non ci è riuscito perché non sempre quando mi fanno la segnalazione hanno l'effetto che vogliono ma guarda in realtà perché tu comunque per quello che io ti conoscevo già ti ho sempre visto molto attento alla tecnica sui tre big poi magari di tuo non sei bravissimo nelle esecuzioni però hai sempre specificato quella forma corretta e questa cosa è più importante e tra l'altro uno come Artusi mi hanno detto tante volte vai fai una reaction su Artusi fai una reaction su Thomas Angri quei famosi tre video che ti hai fatto quella trilogia cioè era come se vivi un piatto l'argento io l'ho visto erano lunghi e te l'ho visto guarda qua devo proprio cercare il pelone d'uovo per rompere il cazzo e non mi sembrava corretto e infatti non l'ho fatto niente questa è una cosa che ho apprezzato quando me l'hai raccontato è una cosa che ho apprezzato tant'è che l'ho detto anche a mia moglie e gli ho detto guarda in realtà Domingo nella sua follia e ricerca cioè non faccio viso alla cazzo ci deve essere un senso no ma certo ha comunque mantenuto una sua etica ed è per questo che l'ho invitato perché se fosse un cavallo pazzo non durerei due secondi nel mio mondo così no ma non è quello cioè saresti una persona proprio con la quale non ha senso interagire quindi ho cercato uno scambio perché ho detto forse uno spiraglio c'è perché ho messo in piedi questo teatrino perché a me piacerebbe riuscire a portare un po' di per quanto mi è possibile un po' di zucchero diciamo in questo piatto ma aspetta non per perché Domingo non deve parlare di Danny o non deve parlare di Marietto non farò mai in questa serie il mio obiettivo è quello di evitare di vedere commenti su commenti giudicanti in modo sbagliato al più delle volte perché perché si è creato questa cosa quello intende questa catena di infatti io stavo per fare una video reaction a questo video fate schifo ferma tutto vuoi venire a farlo qui quando vuoi la cosa migliore è proprio il confronto reale piuttosto che parlare indirettamente perché poi si crea il telefono senza fili ecco l'ho detto quello perché siete voi che state istigando anche in parte ma non sai cosa ha detto quello a me mi arriva pure non è che vado a vedere il suo video magari mi dicono cosa ha detto Danny di te io magari mi fido non vado neanche a guardarlo perché anch'io che sto a guardare tutti i video generalmente è un errore questo ma il video tuo l'ho visto tutto ho visto tutti i commenti e non c'era tre su 600 commenti hanno detto il mio nome quindi tutta questa cosa verso di me non l'ho vista sinceramente però si vede che sono ormai talmente influente che la gente ha in testa a me e ogni volta che si parla di queste tematiche la gente pensa a me vuol dire che è un ode al mio lavoro magari allora vedete questa è una cosa molto curiosa lui vede questo come un ode al suo lavoro se io fossi in lui mi farei un paio di domande ovvero perché quando si parla in modo non piacevole attenzione si parlava di critiche non mi interrompere fermate un attimo perché quando scusate perché insomma si crea confusione perché ho il rage perché si crea questo effetto a catena proprio per questi motivi qua perché perché non è umana questa necessità lui l'ha visto come un elogio avete visto è orribile questa cosa non è umana questa visione positiva di una figura che attacca gli altri io non lo vedrei mai come un elogio io attacco chi stupra le esecuzioni io salvo i tre big dalla gente che viola la biomeccanica io non ce l'ho con le persone no ma fino a qua nessuno ti tu sei un mezzo con cui tu muovi il bilanciere no? sei tu che muovi il bilanciere quindi tu sei responsabile di quello che alla fine esce fuori dallo schermo quindi non me la prendo con te personalmente ma me la prendo con chi guarda quel video magari può pensare male può pensare che l'esecuzione è scorretta non corretta ma semplicemente le persone mi dicono che ne pensi della mia teripresa di Daniele Lazzarine se vedo che c'è qualcosa da dire lo dico se no non lo dico non tanto per quello e la mia domanda è che questo è il senso questo argomento e di parlare e di parlare delle esecuzioni che fanno gli altri nessuno lo può impedire questa cosa qua perché sarebbe anche una limitazione della libertà di pensiero quindi questo nessuno glielo può impedire la mia domanda il mio obiettivo quello dove ti voglio provare a portare è e se facessi la stessa identica cosa che stai facendo che in realtà è positiva se guardata con un occhio intelligente l'occhio di qualcuno che conosce il settore ma il 90% di chi ci segue non lo conosce quindi è altamente infrontabile se il metodo cambiasse ma non l'obiettivo ovvero lui può parlare di tutti ma lo facesse in un modo meno caricaturale no 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 perché quello è bellissimo in realtà è la parte più divertente del tuo video quello che faccio sì il problema è che ci sono stati degli episodi che io non solleverò un'altra cosa qualsiasi cosa verrà detta se tu non vuoi rispondere puoi dire tranquillamente no non rispondiamo se vuoi che una una parte audio venga abbassata la abbassiamo ok la verità dipendente ci sono stati degli episodi dove tu sei stato attaccato di comportamenti non proprio puliti alcuni creator ti hanno definito in un modo non poi così bello razzista ok semino odio voglio distruggere i personaggi no io il termine che secondo me più ti si addice fascista come la sinistra ultimamente quando non ha argomenti vanno sempre lì no un parassita ah sì è vero pure questo esatto perché la necessità smodata di domingo di avere contenuti fatti da altri creator per tenere in piedi il canale questa è l'accusa che ti muovono questa è l'accusa che ti muovono di più domingo e questa è una domanda che ti è stata fatta sarebbe in grado di mantenere un canale con visual interessanti come quelle che fa se non dovesse ricorrere al nome di altri creator questa è la domanda che mi fai da un mili dollari è la domanda che ti fanno tutti e io ho visto anche alcune risposte che hai dato tu e sono state oneste consideriamo una cosa l'algoritmo di youtube come sapete non premia i contenuti premia un po' qualcosa che è un po' di pepe piccante un po' sai no quindi la mia idea è stata io nel contenuto ci metto un po' di peperoncino così la gente si infervora e impara di nascosto è un format nuovo no satira informazione se io dovessi fare un video best brutto maledetto è un dissing dissing quando tu te la prendi con una persona e lo offendi quello che faccio io è una video reaction o una recensione o una satira cerco di non offendere nessuno anche perché una quarela l'ho presa per diffamazione contro un dopato e ho pagato caro quindi so dov'è la diffamazione dov'è offendere e quello non era una diffamazione era semplicemente aver raccontato un episodio che non potevo raccontare ok quindi quello che fa Teotrainers secondo me è un dissing puro e lui me l'ha anche ammesso giusto per farsi conoscere e poi teo ok se l'hai fatto per comprarti casa ci sta purché tu smetta e ti evolva in qualcos'altro a me non piace perché poi vengo accostato a quello io sono di un altro livello da quel punto di vista poi se la gente mette tutti nel calderone come può essere il tuo video che può far sempre a quello io che ci posso fare io questa gente la estinguerei giusto a livello ideologico quello che hai detto è corretto pulito molto bello e ammetto che probabilmente sarei anche interessato a seguire questo genere di comunicazione e contenuto ah rispondo non ho finito a rispondere per domingo senza quello quindi quando ho iniziato il canale ce l'avevo già però lo usavo come diario quando mettevi allenamenti nel 2020 ho iniziato a fare video tutorial non avevo ancora la parlantina di oggi vedo Master Wall siccome ho dei trascorsi con quell'uomo sappiamo tutti chi è ho raccontato la mia storia poteva essere un dissing il mio racconto non è un dissima la mia esperienza lui mi dava del dopato eccetera eccetera il video andò cioè schizzò sulla stratosfera cazzo tutto sto interesse stranamente tanta gente parla di Master Wall ma il mio particolare aveva bucato ho detto ma non sarà che magari sono bravo perché sono sempre stato molto bravo a polemizzare e magari ho beccato il format perfetto perché io da sempre volevo fare una sorta di sgarbi mi chiamavano lo sgarbi del PL sai quello che va là e non per forza dice cose sbagliate però un po' forti un po' controcorrente e sono un po' antisistema anche poi ho fatto una reaction a scheraggi perché mi hanno detto i 220 di scheraggi fai una reaction facciamo una reaction sa cosa è successo? sono stato bullizzato da un'orda di 2000 scheraggini due settimane io a rispondere a commenti io a differenza di altri non blocco i commenti io rispondo uno a uno io ho avuto più bullismo per quel video che per tutti gli altri video che ho fatto io perché c'era un'orda di fanatici una community tossica che seguiva una persona obesa che se ne aveva cazzo di cane che la gente mitizzava anche per quello che mangiava dopo il mio video non so se è stato io lui ha chiuso il canale poi lui voglio prendere i meriti io non sono scontento molti però gli fanno dove escherai? domingo vado a cercare un video con te spaccherei e sapessi dove è lo prenderei lo inviterei qua ok rispondiamo? e finendo tutta questa storia ho notato che c'è questo trend che piace di me e che parlo di altri per le esecuzioni e quindi in base alle segnalazioni che io ricevo io sono come un carabiniere la denuncia ho denuncio la mita di Metani Lazzari controllo la denuncia il reato non sussiste non faccio il video il reato sussiste si indaga si fa il video che è l'inquisizione processo condanna semplice no? alla fine che succede? che l'utente impara che quel fitness influencer è un possiamo dire incompetente truffaldino grazie a te domingo ho scoperto che la panca non si faceva così Master Wallace non lo seguo più semino cosa informazione è ovvio che c'è qualche estremità qualche falange estrema che se la prende poi la domanda faresti le stesse visual senza parlare degli altri? senza correggere le esecuzioni degli altri? senza parlare degli altri? senza correggere le esecuzioni degli altri? no ok questa è una cosa ha purato questo il punto che a me piace nessuno te lo vieta ripeto non è questo il punto non sto dicendo non lo faccio perché mi hanno visto mi piace proprio perché mi piace quel tipo di forma quello che voglio cercare io è una chiave meno aggressiva che infetti meno la community perché quell'atto di bullismo che hai citato prima nei tuoi confronti da parte dei fan di questa persona che hai citato ho usato anche una copertina un po' forte ok ma lo stai creando anche sotto la sessione commenti di altri youtuber youtuber vuoi per l'età vuoi per l'inesperienza vuoi per diversi fattori non hanno l'esperienza che abbiamo noi ma è dovuto all'età è normale e hanno una capacità di resistere agli attacchi nettamente inferiore della nostra questo può portare a molti ragazzi una sorta di troviamo una chiave un po' più esempio marietto 19 anni hai i tuoi fan perché hai due muscoletti stai facendo vedere come ci si allena lo fai male vieni da zio danni vieni da zio domingo che ti insegniamo amore mio senza cercare quella ma sempre che ti dico questo a me interessa relativamente questa cosa il mio obiettivo è quello di pulire i commenti portare il fitness ad un livello dove tutti lo praticano e tutti lo amano ma non perché sono un santo parliamoci chiaro più si innamorano di questo settore più guadagniamo quindi è un ritorno per tutti voglio che la gente non abbia paura di avvicinarsi al fitness detto questo non sto approvando chi insegna cose sbagliate quello che chiedo è riusciresti a trovare una chiave di comunicazione che ti possa evitare di essere denunciato di essere etichettato con parole molto forti prima hai citato il razzismo io non lo voglio sollevare su questo è un episodio tuo che riguarda te e un'altra persona ma è praticamente come se avessero visto una battuta di Checco Zalone che fa molto spesso sull'Africani qua eh sei un razzista ma Checco lo può fare io no devo specificare disclaimer sto facendo comicità non l'ho fatto ultimamente lo sto facendo ho fatto anche il disclaimer sui te Danny non sto prendo il tuo contenuto secondo la politica del fair use prendo una parte e la recensisco l'ho messa nel video della Mitary pensavo che fosse quello che mi ha fatto salvare invece poi scopro che Danny mi ha graziato il video e qui questo ti ringrazio prego ti sei mai fatto una domanda può essere che quello che io trasmetto e di cui io sono fermamente convinto venga però visto da tutti gli altri in modo diverso ovvero io ti ho conosciuto tramite scambi audio in quest'ultimo periodo in realtà un paio di giorni quando ti ho invitato qua e ti ho anche scritto ma sai che tutto sommato sei anche simpatico può essere che queste persone non parlando direttamente con te perché chi parla con te dopo un po' si rende conto che tu effettivamente hai questa cosa a me piace passare per antipatico per scremare i contatti ma questo non è un problema perché l'antipatia c'è sempre stata e non è il problema è quando i ragazzi a casa percepiscono razzismo percepiscono odio percepiscono se tutte queste persone compreso il ragazzo che ti ha qualcuno mi ha anche detto c'è la maglietta nera quindi capito vabbè lì però è la follia ok ma ti sei mai chiesto non è che forse sono io che esagero un pochino e non riescono hai provato a dire forse devo cambiare un po' il tempo sorridere di più quando lo dico oppure smorzare subito con eh battuta sugli africani ovviamente una battuta un saluto a tutta l'Africa per far subito capire se tu non hai una comunicazione chiara con i ragazzi a casa tutto può essere frainteso invece una semplice battuta a fine tipo Danny la tua military è veramente brutta salutiamo Danny a casa che comunque guarda tutti i nostri video un grandissimo amico continuiamo ho fatto una cosa del genere nel video della military press alla fine ok c'era anche un contraddittorio ho messo Marco Pitti che è un luminare della military e lui ti difendeva tutto il tempo quindi era perfetto ok lasciamo stare perché come ti ho detto tu l'hai visto no però non è un problema perché io sono contento ti ho detto ti ho messo sulla white list tu puoi fare qualsiasi cosa perché so io ti ho capito però non è più senso che faccio le reaction se ce l'ho qui in carne e ossa verrò qui tutte le volte a fare le critiche non ci allarghiamo Domenico il punto è perché faccio le video reaction perché queste persone si chiudono il loro cazzo di castello e non posso fare niente allora se non fai video con me lo faccio in qualche altro modo no? è così che funziona non è un problema questo il problema è che se i ragazzi a casa ti accusano di razzismo il tuo modo di comunicare fa schifo non sai comunicare allora perché non è possibile che un ragazzo di 18 anni un ragazzo di 18 anni non può vedere razzismo allora se quel video fosse razzista sarebbe stata arrivata una segnalazione per razzismo ho subito più violenza dal video della panca di scheraggi che da quello di Noah Semota lo stesso Noah gli ho chiesto scuse in privato se ti sei sentito piccato non mi ha cagato di pezza è andato a sfogarsi con altri con la scusa eh razzismo perché ci sono anche come si chiamano i paladini dei neri ci sono anche sono i bianchi che pur di dire oh no ma fatti i cazzi no ma quello non mi interessa il fatto è vedi adesso hai detto che hai provato a chiedere scusa a questo Noah e lui ha detto eh ma lui non l'ha detto hai fatto passare che io sono un cattivo è il problema ci sguazzano su sta storia mi accusano come tu ci sei sguazzato quando io non ho fatto in tempo in quelle cazzo di due ore a darti tu ci sei sguazzato come un maiale nell'albio il problema qual è? il punto è che nessuno mi che quando lo fanno gli altri ti arrabbi quando lo fai tu è la strategia io sono un comico che fa satira ma in realtà avevo anche un altro non puoi fare satira perché se un ragazzo nero si sente offeso hai fatto una cazzata e io lo so che in realtà non la volevi fare quella cazzata tu sei fermamente convinto di aver fatto una black humor sì black humor ma se tutti gli altri non l'hanno percepito quello è un problema ci sono minoranze che non gli è piaciuto ma la maggioranza dei comuni sì la maggioranza siamo d'accordo che su youtube c'è un pulsante chiamato dislike no certo io ho fatto rimuovere un video di Baldini perché ha detto stanzate sull'arco è sparito dalla circolazione se ho questo potere per fare un po' di pulizia lo faccio Bruno Danovaro che fa 500 kg di panca mai esistiti ha chiuso un canale dopo che io ho fatto una bella satira in live 500 di panca? sì è una storia del 95 mi sembra mai questa storia di Bruno Danovaro campione mondiale non posso dirla per chiamare questo querela no vabbè ma non importa chiudiamola qui beato lui comunque 500 di panca è un sogno per tutti il fatto hai capito quello dove ti sto cercando di portare sì ma io penso allora io penso di fare del bene magari a volte sbaglio con certi toni però io sono consapevole che ci possono essere persone che possono pensare male o possono pensare bene come tutti però non posso dire alle persone di volta non andare a minacciare tizio e caio forse non sai l'ultimo scandalo che è successo ultimamente perché tu sei talmente sopra che ormai non guardi più quello che succede non è che non guardo ok se ti dico Federico Sanna cosa ti viene in mente Federico Sanna chi? ecco appunto chi? questo è il discorso mi è parso davanti un tizio non so conosci Danisca là? sì ho sentito ho fatto un video con Danisca prima ho fatto una reaction lui si è arrabbiato ma ha fatto lo strike poi ho detto scusa facciamo un video insieme vieni qua ci stai? vengo là facciamo il video insieme spopolato era il primo creator grosso in cui stavo facendo un video e mi porta questo tizio che avevo fatto una reaction a lui che diceva stronzate sulla panca mi porta questo tizio davanti per farmi una sorta di agguato e io vado una notte con gli agguati cioè la cosa che voglio è lo scontro tutte le volte mi porta questo tizio e mi dice l'arco fa male e c'ho 320 di panca 80 di squat forse hai visto qualcosa che girava io lì per lì powerlifter con la maglia può essere pure pesava c'era 30 kg poi chiedo gli attestati e lui non me li manda si scopre che aveva sparato una mania di cazzate Danny Scala non lo sapeva per tre anni questo ripeteva poi si contraddiceva io ho fatto tutto un montaggio in cui stavo è dato un meme vivente e ha subito bullismo shitstorm sì perché un canale di 200.000 iscritti gli fai parlare uno così ti ammazzano più le mie storie e tutta la colpa a me Domingo è cattivo e Danny quando ha saputo che stava mentendo per amicizia l'ha protetto e si è precato una merda con lui Danny non io Danny Scala scusate ci è successo ho preso questo personaggio l'ho portato al mio canale e l'ho riabilitato quindi il pesce mi sento che aspetta aspetta no non volevo mancarti di rispetto ripristinare quello che era successo no no mi piace molto il termine ma lo dicono i follower Domingo no no mi piace mi sto diavirtendo tantissimo perché è questo fare molto giuridico ovvero che prima c'è il processo dopo c'è la sentenza e adesso riabilita anche questo è un viaggio bellissimo infatti il mio acronimo è DOOM è che è giudizio anche il mio codice scondo tra l'altro DOOM 64 ok tu lo sai che io sponsorizzo la Power Gear che è l'azienda rivale questa la taglierete tanto di la Certosus questo video non ha tagli posso dire il codice scondo di Power Gear oddio ti fanno un culo così non è che ti faccio un culo così ma non scendiamo no ti fanno un culo loro chi? la Certosus non credo abbia paura di queste cose non credo ne abbia bisogno scusate per la marchetta improvvisa comunque il discorso è sì mi sento un giudice dei tre big e mi sento di poter giudicare le esecuzioni e nella vita reale magari giudico anche certi comportamenti ma da mano che uno cresce diventa un'influenza sempre più grosso e a volte la gente si fa anche influenzare io di fatto mi considero un influencer nel mio piccolo ovviamente perché vedo che comincio a spostare un po' di masse qua e là se io ho il potere di mandare qualcuno a casa di qualcuno a uccidere è ovvio che devo dissociarmi e mi dissocio da certi comportamenti vado a dire a nessuno andate lì a mettere dislike anzi quando mi fanno un dissing metto un like grazie ho un bel contenuto finalmente per rispondere perché non sono mai carnefico sono sempre vittima nessuno esageriamo domingo no 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 la strategia è sempre essere vittima non sei vittima infatti mi dai un martire non ci sono vittime la vittima è uno ti attacca e tu rispondi io ho fatto un video elogio e tu mi hai censurato quindi ero la vittima inconsapevole inconsapevole e tu vedete com'è lui è fermamente multiversa mi ha censurato messo su una white list attenzione avete capito adesso ti ho riabilitato infatti siamo qui pacificamente puoi dire anche un'altra cosa adesso visto che non ci sono i tagli che io prima che ci sentissimo di persona qualche tempo fa che provavi a caricare un video io ho detto se è domingo mettetelo nella white list ma questo non hai detto dopo io non potevo saperlo sì 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 a maggior ragione io non l'ho detto in ogni caso io nonostante io lui non ci sentissimo sono venuto a sapere dal network che mi dicevano guarda stanno provando a caricare un video sulla tua military hanno provato a caricarlo quattro volte e quattro volte l'abbiamo buttato giù ho detto sarà domingo però l'hanno caricato anche su un altro canale che è una sorta di canale scagnozzo ho detto carica tu se ti pecchi lo strike io non vado in avanti quindi mi ha dato un soldato avanti è passato è strategia Demi questa non è strategia se tu mi rispondessi al telefono io tutti questi problemi non li avrei ma io devo pensare questo non mi risponde che so già avrai in mente bisogna pensare a tutte le mosse oh ok il fatto sta che io comunque nonostante è così divertente muovere le pedine della scacchiera abbiamo a che fare con Dio cioè lui amministra e gestisce al di là di questo quando ci siamo anche sentiti mi hai detto un'altra cosa che mi ha fatto riflettere molto hai detto io porto questi contenuti perché me lo chiedono i ragazzi loro mi chiedono denunciano io sono come Batman accendo il riflettore e io arrivo questa è più o meno la storia ok vigilante ragazzi ovviamente mi occupo solo di grossi influencer perché sono quelli che fanno danni sai quanta gente mi manda guarda questo no ragazzi i pesci piccoli non fanno danni non voglio creare un casino mi occupo solo di quelli grossi quelli come Multiversa di Scala o anche sopra ma ovviamente guardo anche l'engagement perché se tu sei un canale morente non ha senso darti il colpo di grazie ovviamente ecco c'è anche anche questo se mi fai mille visual con un canale di 100.000 va bene al di là di questo senza fare nomi un'altra cosa dai no allora al di là di questo il pubblico lo vuole però vorrebbe dei nomi sì qualcuno ti ha messo in un video introduttivo per usare la costruire non so se l'hai visto no non lo guardo hanno preso la tua live che tu hai cancellato quella contro te o trener l'hanno presa l'hanno messa in un video contro di me e hanno messo la tua foto copertina contro di me c'è qualcuno che usa anche il tuo materiale non so se lo sai per farmi un video dissing ok dopo mi spieghi questa cosa qua che cerchiamo di smarcare anche questa una cosa che voglio toccare dopo passiamo ad altro è il discorso dei dei ragazzi che come abbiamo capito te lo chiedono te lo chiedono e tu lo fai tu mi hai detto guarda valuto prima no no certo certo se no Artusi già era ferrafuoco visto che mi hanno segnalato in massa anche Artusi Davide non lo so io in privato ho detto la panca è corretta o non mi ricordo cosa ho detto fine e quello l'ho smontato no certo ci è rimasto male quello che sì ma infatti questa cosa del stare appresso a quello che ti chiedono i ragazzi del pubblico io credo che sia il primo passo verso l'assassinio della propria creatività oppure per delegare altri il lavoro che dovrei fare io io non vado a controllare i video degli altri io mentre faccio i cazzi miei se devo fare una video reaction aspetto che mi arrivano le segnalazioni ma questa è digressione stiamo cambiando discorso aspetta un attimo che ti porto in un punto io ho detto che se cominciamo a dare vado alle richieste che fanno i fan stiamo uccidendo la nostra creatività mi spiego perché io so che il pubblico vuole questo io mi concentro su questo non lascio la porta aperta alla mia mente di creare ok se io facessi quello che loro mi chiedono di fare se io facessi video come di dissing come li fai tu farei mezzo milione 600 mila a video sì è così la legge dei numeri ma a te non piace farlo e questo è il punto a me non piace farlo la differenza è questa no lascia stare la differenza non è questa se tu mi dici perché tu mi hai detto testuali parole io lo faccio perché me lo chiedono se tu mi dici così io subito penso probabilmente lui avrebbe tante altre cose da raccontare da dire perché se c'è una cosa di cui non possiamo dire è che lui non sappia le tecniche del powerlifting di sicuro può parlare di questo no fammi finire che mi piace e dopo finisci tu quindi sappiamo che lui avrebbe delle frecce nella sua faretra e anche interessanti a livello tecnico quindi se lui mi dice io lo faccio perché me lo chiedono dico ma non è che stiamo privando il pubblico di conoscenza importante che gli altri non hanno ok perché ascolta quello che gli chiedono e non lascia spazio alla sua creatività io ti dico prova a limitare un po' questo tipo di contenuto fallo sempre perché tanto non potrai nessuno ti fermerà perché come hai detto tu ti piace ma prova anche a lasciarti qualche spazio solo per te ovvero prova a portare al tuo pubblico qualcosa che piace a te tu sei un appassionato di cinema mi hai detto hai parlato con Steven il mio regista e vi siete subito trovati anche di video games molto più del fitness ecco molto più del fitness perché non faccio video sul adesso no tu se fai quello che vuoi ci mancherebbe ti sto solo dicendo no sì però lungi da me tu fai quello che vuoi ti sto solo lanciando questo amo vediamo se abbocchi perché potrebbe essere una cosa molto molto bella se però dice no 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 non abbocco nel senso ti voglio rispondere ok se tu provi a creare qualcosa che ti piacerebbe portare ma che non l'hai mai fatto perché sei super convinto che il pubblico vuole quello da te e quindi tu ti stai limitando stai uccidendo la tua creatività prova ad osare prova a dire ok gli ho fatti video sul dissing queste cose qua che vi piacciono tanto ma adesso vi porto con me a scoprire questa video reaction non solo dissing perché stiamo a mi mettere il calderone dei cattini video reaction ok specifichiamo se no domingo fa satira i state gorilla l'hanno detto anche loro avranno un po' di hai fatto i video con loro sì quindi approvi cosa che loro sono d'accordo che io non faccio loro hanno una loro testa una loro idea nel senso che comunque sono soggetti sano che mi hanno approvato ok io credo che nessuna persona abbia bisogno di un'approvazione esterna nel senso che se non ti fidi del mio giudizio a meno ascolti i tuoi amici io non ho bisogno di fidarmi di nessuno perché tu non hai visto a me il mio canale non mi conosci il fatto è che tu dica prova a fare la tua creatività quando mi arriva una segnalazione io vedo se c'è un contenuto creativo con quel soggetto ci crea una storia ci metto una citazione di film era solo una domanda io ho pensato faccio il video di Midori Press da solo chiamami Marco Pitti che adorano la chimica è un mio personaggio del mio canale ok con cui faccio i video a volte l'hai iscritto tu? eh? hai detto è un mio personaggio del mio canale hai presente Rino Banffi e Cristian De Sica ho scoperto tu non so se c'hai un tuo duo con cui hai una chimica particolare ok i fans adorano quando stanno insieme e io lo invito spesso dato che era Midori Press ho detto devo farlo con Marco Pitti ok quindi è piaciuto tanto anche perché c'era Marco se era solo era noioso quindi la creatività sta anche nel cercare di come fare una critica a Danny in modo divertente e far divertire oltre alla critica stessa no dico ragazzi la Midori è finita a posto no certo quindi c'è una creatività alla base non è che non faccio mai un video se non sono ispirato non mi piace fare i video forzati per questo il pubblico mi dà un'idea io la sviluppo se non è non la faccio molte volte non ho fatto delle idee che non ho detto quindi smonto questa cosa e non faccio solo video direction ci sono video di gare video tutorial e come cambiare canale domingo tu più chi vuole vedere quello cambia canale no il video di gare non mi interessa probabilmente ho costruito una grande fanbase su un tipo di contenuto ma vedi la differenza di Rapponi io non faccio solo quello come Rapponi cambia eh eh non ti stavo accusando di non aver creatività tu hai mille cose no la macchina le cose c'è magari l'orologio hai mille rubriche non fai una cosa sola poi c'è una parte del tuo canale che piace particolarmente vedi tu hai questo concedimelo in amicizia lo dico difetto tra virgolette no no è una critica come dice sto recensendo l'ho assaporato come se il pubblico decidesse cosa devo fare limita la mia creatività ecco vedi era qua la critica che volevo farti tu non ascolti la persona che ti sta parlando tu traduci in maniera istintiva quello che mi esce dalla bocca a me o a chiunque altro e lo traduci con il tuo forma mentis ovvero quello che sto dicendo io tu lo traduci con il tuo pathos e la tua logica quindi tu hai scambiato nella mia domanda che in realtà voleva essere anche piacevole per creare una sorta di no accusa perché ho capito questo perché tu non mi hai risposto dicendo no Danny guarda oltre a questo ci ho pensato faccio questo tu mi hai detto ti smonto subito ecco vedi quella che per me era una domanda fatta tra amici tu l'hai interpretata in un modo orribile ovvero tu ti sei sentito in dovere di dire ti smonto dopo hai scontato che tu non hai visto il mio canale ecco perché mi giudichi senza conoscermi non c'è giudizio in questo sto dicendo come traduci le cose vedi che stiamo parlando in due cose differenti tu continui a dire non hai visto il mio canale sto parlando della tua persona non c'è il canale qua lasciamogli stare i canali i canali possono piacere o non piacere quello di cui sto parlando adesso è Domingo Poliandri come persona io ti stavo parlando tu non mi hai risposto e hai subito iniziato un discorso dicendo ti smonto subito quando per me era chiuso tutto era un discorso tra due persone ho capito male io ho capito male sembrava che mi stessi dicendo che la mia limità la mia creatività è limitata dal fatto che la gente decide i miei contenuti e ti voglio dire che non è così questa è la mia risposta e lo sapresti se avresti visto i miei video perché se guardi i miei video c'è un contenuto che ha sempre un senso sai quale più bel complimento che mi dicono Domingo grazie a te ho trovato il sorriso stavo all'ospedale ho visto te e mi hai fatto una risata grazie a te mi hai imparato per fare la panca piana è questa la mia moneta di scambio non è la visualizzazione ovviamente ci deve essere perché è lo share se il video piace o meno se tu facessi video da una visual anche di fortissimo contenuto tecnico diresti vabbè qua bisogna cambiare anche qualcosa purtroppo in questa ultima parte non ho trovato lo scambio cioè sto cercando di andare da un'altra parte ma non riesco a trovare la comunicazione ecco vedi un'altra cosa spiegala meglio cioè questo tuo atteggiamento dove ti sei messo in una sorta di piedistallo dove la forma corretta è la tua gli altri stanno sbagliando qualcosina perché tu non hai detto oh perdonami Danny forse ho frainteso e capito male ridimmi tu hai detto probabilmente ti sei spiegato male cioè vedi tu a livello egocentrico non hai aperto la possibilità ad un ah caspita forse pensavo un'altra cosa ho interpretato male il tuo essere egocentrico ha subito detto Danny è sbagliato a comunicare perché non ho capito ho pensato che sia quello non ho detto non sto dicendo che sia così poi ci sarà che il pubblico capisce una cosa no sto con Danny ci sarà una spaccatura quindi alla fine è tutto molto percepito io posso percepirla in quel modo perché dopo è scontato questo è il mio errore che tu non mi conosca e parto prevenuto Danny mi giudica per quello che senti tu stesso mi hai detto il video non l'ho visto mi è stato detto che e tu sai bene che il telefono senza fili crea danni infatti il problema è anche a ritroso Danny ti ha insultato no ha detto che tu hai insultato la mente ecco per esempio perché hai detto a Teotrener nella live ho visto mi hanno detto che Domingo ha detto sono parole forti da un'influenza dimmi non iscritti che la mia milita rifà schifo e mi devo vergognare ora se tu dici queste cose perché hai detto io ho detto queste cose nel video no ridilla esattamente come l'hai detta adesso allora Domingo ha detto che la mia no 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 avevi detto altre tre parole prima non mi ricordo cosa ho detto prima te le dico io mi hanno detto che Domingo ha detto sì tu esatto non ho detto Domingo ha detto la lingua italiana è complessa e non può essere fraintesa la legge grammaticale la sintassi il modo di comunicare nella lingua italiana a differenza di altre lingue e questo Dio grazie perché la nostra storia ci aiuta non lascia spazio all'interpretazione a dispetto della legge italiana che è ampiamente diciamo aggirabile per via dell'interpretazione la lingua con cui si comunica non lascia scampo all'interpretazione e all'essere magari frainteso perché perché certe parole sono come un calcolo matematico la nostra grammatica è inattaccabile è una cosa bellissima studiatela quando io dico Domingo mi ha detto quando dico Domingo mi ha detto ho fatto chiaramente pensare che tu di persona mi hai detto se dico in una live sapete mi hanno detto che Domingo ha detto attenzione mi hanno detto chi non l'ho detto ignoti che cosa che Domingo ha detto ma non ne sono certo ok tu ti rendi conto che dall'alto della tua posizione se tu dici una cosa del genere potresti scatenare a me un odio perché come ti permetti di offendere la Dany a dire che si verrà di vergognare potevi magari controllare meglio la fonte come farebbe ogni giornalista prima di sparare certe sentenze in una live ok con un personaggio piccolo ma che poi rimbazza e mi arriva a me e poi mi dico ma hai sentito questo detto Danny e io ho dovuto rispondere come con un video in un altro canale per far mandare a Danny un messaggio dato che Danny non mi ascoltava in quel momento direttamente come adesso che io non ho fatto prima vedere cosa ho detto della vita di sua e poi nella sua parte di live quindi cosa ha capito Danny non lo so io mi permetterei mai di dire a te di vergognarti e che fai schifo non mi permetterei mai di farlo con nessuno cosa ho detto dopo quando ho detto questa cosa ho detto domingo ho sentito mi hanno detto che domingo ha espresso questi giudizi negativi nei miei confronti fai schifo e ti devi vergognare addirittura esatto cosa ho detto io dopo così se me ne odio però no attenzione cosa ho detto io dopo l'hai vista la live non mi ricordo il resto dopo mi ricordo quella parte lì ok è importante anche contestualizzare aspetta provo a ricordarmi hai detto pensavo che la mia litera fosse bella eppure sembravi quasi dispiaciuto per dire ma io dico ma ho detto una cosa qualcuno mi ha detto domingo cosa si provava a far sanguinare un dio questa era bella perché la prima volta che Danny si abbassa con un canale piccolo mostrando quasi un segno di debolezza un segno di una ferita no 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 attenzione molti hanno percepito come se l'avessi toccato nel profondo sta rosicando per quello ma vi rendete conto questo è quello che la community ma ti rendi conto di che community hai no io in generale no 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 questa è la tua la mia la rioni i messaggi su può essere pure un po' è una cosa assurda sanguinare un dio perché hai detto che la mia visto che sei esperto di cinema che battuta di quale film è se no dovessi sbagliare la sa Steven 300 bravo era 300 allora niente sono confuso no licenzialo nella ci mancherebbe nella in quella live quando ho detto ho sentito dire queste cose mi hanno detto ho detto mi dispiace ho detto che abbiano pensato questo dopo ho detto sai io la militare l'ho anche riguardata tanto schifo non mi faceva ti non faceva schifo cazzo ma il problema è che hai detto una cosa che non è vera e la gente può essere presa con me e io ho dovuto rispondere non ho potuto rispondere perché mi hai sequestrato e portato qui a rispondere adesso dovrei sono contento di questo dovrei riprendere la frase che ho detto cinque secondi fa la lingua italiana non lascia scampo ho detto mi hanno riportato che non ho detto domingo ha detto non ho detto così chi ti ha riportato spara cazzare voglio nome e cognome adesso esatto nome e cognome chi che te l'ha detto chi che te l'ha detto nome e cognome ma non lo so me l'avevano scritto nei commenti da qualche parte tu ascolti la gente che limita il tuo giudizio ma infatti non ho detto che era vero ma ti rendi conto hai detto non so se sia vero non penso perché domingo è una persona corretta ma ho sentito cioè tu potevi fare questo disclaimer la lingua italiana è corretta il dio della menzogna io sono dietro la menzogna beh dai il dio dell'opportunismo in realtà mi hanno detto anche che sono l'occhi il dio dell'inganno beh questo può essere no assolutamente quella live è stata estremamente pulita e nessuno può aver infatti è sparita è cancellata e TikTok di Teotrain è sparito però non dico che sia stato tu per essere tu mi hanno chiuso il canale non dico che Danny l'abbia fatto però magari qualche suo fan lì a cliccare e allora e allora vedi che ognuno può spostare community anche indirettamente male verso qualcuno non dico che sia colpa tua però tu anche nella tua posizione facendo un video sfogo con Teotrain potresti avergli creato un problema indirettamente ci può stare? siamo tutti e due responsabili di quello che facciamo è possibile che tu magari con quel video che poi hai cancellato perché era diciamo un po' esagerato non che tu non fossi giustificato a farlo perché poi avevi chiarito qualcuno magari qualche fan bastardo come ti permette Teotrain di attaccare il mio fan perché tu hai dei tantissimi fan molto più di me no sai io quando hai un potere molto più grosso voi dite voi dite sempre Danny su un piedistallo è un dio allora no 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 io non dico no no lasciami un attimo quando tu hai detto questa cosa qui del il dio può sanguinare o dio si è abbassato mi fate capire che voi vi attaccate a prendere quei piccoli pezzettini delle mie live e strapolare decontestualizzare quella parte io non appena sono entrato nella live di Teotrain nonostante Teotrain avesse detto Danny non è un professionista del fitness quando io muovo milioni di euro e su quello non sono d'accordo sono d'accordo ma mi sono chiarito io non appena sono entrato nonostante lui fosse intorto e lo ha ammesso perché sono molto gentile ha detto guarda effettivamente lì mi sono un attimo spiegato male la prima cosa che gli ho detto nonostante lui sia molto più piccolo di me parlo di età ovviamente quanti anni hai tu? 37 ok gli ho detto guarda Teo mi dispiace tantissimo per averti fatto un video di risposta perché sei un ragazzo giovane e puoi sbagliare gli ho detto mi sono vergognato nonostante lui mi avesse chiesto scusa gli ho detto mi sono vergognato perché ho detto esprimermi così verso un ragazzino molto giovane che deve ancora costruirsi un futuro non fa parte di me in live ti chiedo scusa questo gli ho detto io che sono dall'alto della mia montagna sono andato nel suo canale con i suoi fan a dirgli mi vergogno tantissimo per essermi espresso contro un ragazzino che deve ancora costruirsi il suo futuro ti chiedo scusa e continua così ma io mi chiedo come mai dall'alto della tua posizione ti sei abbassato a rispondere a uno come Teo Trainer che era come una zanzara che ti ha fatto pic io non capisco perché tanti ti hanno tanto fatto cose contro non capisco perché Teo ti ha triggerato e lui l'ha visto come un successo grande spettacolo questo lo tratterò con Teo nella sua puntata che di sicuro verrà io e lui ci siamo parlati non spoileriamo posso dare un attimo un assaggio io al tuo posto non avrei neanche risposto no 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 ma perché perché era uno dei tanti che il problema è che ci sono stati diversi sui tiktok dove dice delle inesattezze la mia vita privata e allora ho detto un attimo queste cose qua non mi piacciono ho fatto solo quella stupida tiktokata lì che non fa parte di me ma subito ho fatto un passo indietro ho detto ragazzi ho 37 anni mi dispiace tantissimo come non ho mai fatto video contro di te contro nessuno io preferisco inattaccabile abbiamo qui il dio non c'era il motivo io avevo tutte le ragioni in quel momento sto scherzando domingo non capisco l'ironia a volte ok non ho detto questo no però mi accusano di questo può essere può essere che a volte non capisco l'abbattura mi auto ok il fatto è che preferisco questo infatti è uno dei motivi per cui ti ho invitato ho invitato Teo Trainer ho invitato anche un altro ragazzo che purtroppo non è riuscito a venire ma speriamo ci raggiunga presto perché mi piace chiarire i toni sono stati un po' accesi un po' no ma nel rispetto ma sei d'accordo che un personaggio grosso non dovrebbe rispondere alle provocazioni di un pesce piccolo perché il pesce piccolo male che vada ci guadagna sempre non sei d'accordo c'è un range per cui a me c'è un canale non voglio citare il nome forse lo conosci è un tizio insomma questo qua sono due anni che mi offende pesantemente ma proprio offende è un po' come una punza di schiettura come tu magari con te uno ta 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 prima o poi dovrò rispondere ho calcolato strategicamente che se rispondo a uno come lui nel ben che vada guadagna follower nel mal che vada comunque quindi tanto vale ignorarlo la cosa peggiore che puoi fare a una persona ecocentrica è ignorarlo un provocatore non va non feed the troll si dice no? don't feed the troll non dovresti essere qua attenzione io non sono quel personaggio però se io fossi stato quel personaggio cattivo nei tuoi confronti guarda io ho presente chi dici l'ho conosciuto qualche settimana fa no non l'hai conosciuto questo personaggio hai conosciuto cattivissimi che se lo voleva presentare e le stesse cattiverie che nei tuoi confronti le ha anche verso di me ma adesso tutti si siamo fatto di video contro anche di te ma su di me è proprio ossessionato lo invito qua voglio allora Danny io te lo dico non voglio sembrare un dittatore però io sto cercando di fargli terra bruciata io non permetto a nessun grosso influencer di riportarlo fuori dal fondo dal dirupo dove si è buttato e lo voglio vedere nella sua gabbietta che sbraita nessuno mi caga e basta perché la punizione per questo soggetto non è querelarlo perché l'hanno querellato Raponi e Calla e lui si strappa le querellanti a tutti e non è neanche farci un video contro perché lui è talmente meno mato che non capisce un cazzo e diventare a dire Danny mi ha chiamato al telefono quindi se ti posso dare un consiglio e lo conosco questo personaggio non ti voglio dire a te cosa devi fare ma se ti posso dare un consiglio è un boomerang se lo fai non invitare questo personaggio Biasci ha fatto una live con lui e si è preso del pagliaccio ha fatto una figura di merda storica chi? Biasci ha fatto una live con questo soggetto perché gli hanno caldamente consigliato non sapeva in che cazzo di merda si stava trattando quel è stato il punto più basso della tua storia parliamone dopo rimaniamo su di noi sì sì è un consiglio che ti dopo dopo ne riparliamo volentieri io direi quanto abbiamo fatto regista? allora un'ora e quattro minuti cioè questa è follia chiudiamo per continuare no lo so ma è troppo per i ragazzi niente spero che questo video vi sia piaciuto esatto portiamo regista ci sono altre cose da toccare penso che abbiamo visto tutti in maniera dico che è stata una bella conversazione ok eppure lo ho con tanti contenuti molte perle però possiamo chiederla qui perfetto grazie c'è una sorpresa per te eh sì visto che sei l'hai detto tu stesso io sono un giudice sì sei un giudice e sei una sorta di carabiniere sì hai qua in mano una paletta con c'è una con Danny che sta così c'è il verde di un Danny felice con la coppola e la lupara dov'è? eccola qua e dalla questa è la minaccia non potrà dargli il rosso adesso e di là c'è la parte rossa dove un Danny piangente non è stato approvato so che molti di voi vorreste che io dessi la paletta rossa no no adesso sinceramente sinceramente devi essere libero però come nel powerlifting ok luci per favore però la valida ok che bello sono molto felice davvero non mi ha pagato eh lo sono sincero voi sapete ragazzi che famoso il detto domingo approved tu adesso sei approvato sei tu anche tu in white list ok grazie non rompete più il cazzo a Danny per la questione del video perché non si riferiva a me quindi basta sia da parte da parte vostra verso di me e da parte sua eh bravo le distruzioni non c'è niente speriamo di aver chiarito con questa cosa domingo grazie per essere stato qua con me è stato un piacere mi sono divertito tantissimo grazie e ci vediamo nella prossima puntata grazie a tutti